Siamo a casa della signora Gerardina Leo, dinanzi a questa immagine della Madonna, il cuore immacolato di Maria, Castel San Lorenzo, ci troviamo, e vedete ci sono dei segni di sangue. Ecco, questo quadro è stato sigillato in un doppio metro, e raccontiamo un po', signora Gerardina, raccontateci un po' cosa è accaduto qui. 50 anni fa, in che anno proprio? 74. Nel 74, che mese? 21 ottobre. 21 ottobre 1974, quest'anno sono giusto 50 anni. 25 anni, quindi io non c'era, ero andata al lavoro con le castagne alla montagna della Padaspide, quindi quando tornai per strada l'autista del pulmone mi raccontava che era che vi è successo, però io mi avevo capito che era a casa, però eravamo, abitavamo sopra. In un'altra casa comunque. In un'altra casa, questa no, questa non c'era, dopo 20 anni siamo venuti qua. Sì. Ah, quindi io cominciavo a piangere a sangue. Quindi questa immagine proprio lacrimava sangue proprio, dolce di sangue. Ah, c'erano due o tre persone. C'era vostro marito, allora. C'era mio marito. Che poi, tra l'altro, vostro marito adesso è defunto, giusto, non c'è più. Ma era fratella di Teresa Musco. Musco. Musco, eccola lì. La vediamo lì in foto. Che pure è morta in concetto di santità, vero? Sì. Aveva le stimmate. Aveva le stimmate, l'estate pure che lacrimavano in casa, vero? Sì, l'argi sono stanno a immagine comunque che stanno. Sì, in provincia di Caserta. In provincia di Caserta. Dove proprio? Cagliazzo. Dove? Cagliazzo. Ah, Cagliazzo, in provincia di Caserta. Teresa Musco, allora. Musco? Sì. Musco, ok. E quindi voi stavate raccogliendo le castagne, insomma, vi stavate ritirando. L'autrice del pulmone raccontava di Giacassetto, ha succeduto questo, ma loro lo raccontavano come dove si batte una battuta. Eh. Io mi sono stata zitta comunque, tutto quanto mi tiene una battuta a loro. Ognuno diceva la sua. Ognuno diceva la sua. E quindi sono arrivata a casa piena di gente, sempre là sopra. Sì. Quindi, ognuno, chi credeva e chi non credeva, pure adesso è così. Sì, ma poi questo evento si è verificato pure nei giorni a seguire, cioè che... Tantissime volte, fino al 76. Fino al 76, quindi per due anni. Eh, quindi. Cioè voi asciugavate la figura e poi... No, non si asciugava, raccoglieva in quella connessa. Eh, restava sempre così. Ma la cosa curiosa, poi, io vedo come se queste, diciamo, gocce di sangue, queste lacrime che scendono dal viso della Madonna, poi avesse... come se... Non so, come se si fosse formato un cuore lì. Vero? Eh, sì. Eh, io ci vedo un cuore lì. Cioè vedo le gocce che scendono, un cuore aperto. Un cuore aperto, non ha raccontato quelle... Tante volte, non stavano mangiando, stavano... Ma la figura la pulivate voi, oppure restava sempre... No, rimaneva sempre così. Diciamo, il sangue diventava vivo? C'era due dita di sangue accolto sulla cornicetta piccola, perché c'era solo quella dentro. No, questa fuori l'hanno messa dopo. Sì, è stata sigillata, insomma, la curia l'ha sigillata. La curia? Sì. Eh. Quindi era... Stavano raccolto due dita di sangue, poi l'hanno preso a analizzarla e tutto quanto. È stato anche analizzato, quindi? Sì. E che risultati di queste analisi? Eh, un colpo umano comunque, sangue umano. Però non so dire altro, non è che non raccontavano a me quelle che succedeva. Certo. Basta così. No, e ditemi un'altra cosa, la chiesa poi si è espressa su questo? No, no, ancora sono scelti, chi non crede, no, comunque. È finita un po' così poi la cosa. Il vescovo che c'era prima venuto 4-5 volte, quello da Vescovo Casale. A Casale proprio, all'epoca. Quindi lui è venuto qua a te, sacerdote, a Pianto, una volta davanti a lui, però dopo... Davanti al vescovo anche a Pianto? Sì, a Pianto. E non ha rilasciato qualcosa di scritto, non si è pronunciato, insomma. Eh, perché io non sapevo neanche che ero vescovo, quindi abbiamo... Ah, non diceva neppure che era il vescovo. Ah, ok. E quindi è rimasto poi così, insomma. È rimasto così. Ma c'è stato poi qualche... Diciamo, dopo questo evento, questa lacrimazione, sangue, insomma, che la Madonna ha lacrimato sangue, c'è stato per caso qualche evento spiacevole, qualche brutto segno, no? Perché sai, quando una Madonna piange, di solito, vuole quasi... E c'è il terramato dopo, quindi... C'è stato il terremoto, va bene, negli anni Ottanta, però... Eh, sì, però... Non è successo nulla, più a Castello, qualcosa di... No, no, no. Forse, chissà, un invito pure alla conversione, no? La Madonna forse vuole... Sicuramente qualcosa vuole, ma... Però adesso, negli ultimi anni, non è più... Non si è più ripetuto questo fatto, questo episodio, diciamo così. No, no. E invece il parroco, cosa ne... Nemmeno si è espresso, non si è espresso, ok. Va bene, signora Gerardina. Grazie mille per questa testimonianza che avete rilasciato. Grazie. 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 Grazie.